Io ho visto un gruppo che si amalgama di giorno in giorno, che penso che quella sia la nostra forza, il gruppo, e poi durante la partita creiamo tanto, concediamo poco l'avversario e penso che continuando così potremo toglierci delle belle soddisfazioni. Sì, diciamo che noi dobbiamo essere bravi a non avere fretta di fare gol, di chiudere la partita, ci sono squadre che si chiudono, si difendono in 11, noi dobbiamo essere bravi a girare palla, a tenere palla, a fare del possesso palla la nostra arma migliore, poi una volta che si perde palla cercare di tutti insieme fare il massimo per riconquistarla e con pazienza cercare il gol, pensando prima di tutto all'aspetto squadra prima dell'aspetto personale, cioè la squadra viene prima e se tutti e 11 ragioniamo così, ripeto, ci sarà da prendersi belle soddisfazioni. Sì, sì, no, allora io devo innanzitutto dire che il gaucho come giocatore è insostituibile perché ha delle caratteristiche che sono di categoria superiore, quindi è impossibile far come lui, diciamo. Io che gioco al posto suo adesso, in questo momento, ho delle altre caratteristiche, cerco di metterle al servizio della squadra, cercando di far far gol ai miei compagni e comunque abbiamo trovato una quadratura che è dimostrata anche dal fatto che chi entra dà il suo contributo e tutti e 22 giocatori sono fondamentali per questo Bassano e questo è importante sia per allenarsi bene che per che il mister sa che chiunque entri in campo dal massimo. Sì, diciamo che la cosa fondamentale è quando si fa bene di festeggiare e poi dimenticare subito la partita fatta e la partita vinta e pensare alla partita successiva perché comunque noi dobbiamo pensare che queste qui sono le ultime quattro partite, sono quattro finali, come lo pensavamo dieci partite fa, sono tutte fondamentali. Sappiamo che noi dobbiamo cercare di andare in campo cercando di conquistare più punti possibili perché noi ai playoff ci credevamo dieci partite fa e ci crediamo tuttora, quindi la nostra consapevolezza è quella lì, di cercare di dare il massimo e arrivare a fine partita stremati e non avendo rimpianti e avendo la convinzione di aver dato tutto e di non avere rimpianti. Io ho fatto quattro anni anche a mezzo corona, ho giocato contro il Bassano un paio di volte e facendo anche gol, quindi spero che non me ne vogliano i tifosi. Comunque per me Bassano era un sogno venire qui e adesso che ci sono per me è un onore giocarci, quindi io spero di dimostrarlo ogni domenica con le prestazioni, con gli infatti che voglio meritarmi questi colori e questa maglia per quello che ci dà il pubblico la domenica, per quello che ci dà la società, lo staff tecnico, metto dentro tutti i giornalisti, allenatore, magazziniere perché ci mettono nelle condizioni di arrivare la domenica e pensare solo al calcio cercando di dare il massimo, quindi per me è un onore essere qui e un piacere. Ma io ti dico se devo farmi un obiettivo personale, mi piacerebbe farne altri due perché arriverei a 30 gol in tre anni in Serie C, però se dovessi mettere un altro obiettivo che è quello di vincere i playoff, metterei davanti quello insomma. Sicuramente il Fano è una squadra molto attrezzata, lo dimostra la classifica perché sono terzi in campionato, sicuramente dalla nostra parte ci sarà la voglia di vincere, noi entreremo in campo per quello, mi auguro che il pubblico sia tanto domenica a sostenerci e spero di conseguenza di dargli una bella soddisfazione portando in saccoccia i tre punti. Io penso che dobbiamo cercare di giocare come le partite precedenti, stando tranquilli, cercando di tenere la palla a noi, farla girare e che il gol prima o poi viene fuori insomma, cercare in undici di non prenderlo e in undici a farlo come abbiamo fatto da dieci giornate a questa parte.